Cosa succede se uniamo Reggio Emilia, un gruppo di cittadini, una dose di interesse per la mobilità sostenibile e un pizzico di collaborazione? Semplice! Otteniamo MoveOnGreen, un progetto per dare vita ad un gruppo rappresentativo di ascolto attivo, pronto a collaborare per raccogliere informazioni e confrontarsi con il comune per compiere scelte importanti sulla mobilità. Il gruppo dei Movers è il punto di riferimento per mappare comportamenti di mobilità, raccogliere esigenze e conoscere opinioni, sapere quale mezzo di trasporto preferiscono per i loro spostamenti quotidiani, come accompagnano i figli a scuola e come si recano in centro storico, se preferiscono spostarsi con la bicicletta, l'auto o il trasporto pubblico per andare al lavoro. Le esigenze di mobilità sono tante. Per questo serve un bouquet di opzioni basate sulle necessità e sui comportamenti dei cittadini. Qui entrano in gioco i nostri cittadini attivi. Grazie al loro contributo, sarà possibile progettare politiche e azioni di mobilità all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile. Più persone partecipano, più dati raccogliamo, più utili sono i risultati. Approfondimenti dedicati, confronto sulle abitudini e sui bisogni di mobilità. Bastano smartphone o computer per partecipare e dire la propria sui temi che di volta in volta discuteremo insieme. Fare scelte più sostenibili è importante per tutti, non credi? Aiutaci e aiuta la tua città. Partecipa a MoveOnGreen e diventa un Movers, scrivendo a moveongreenchiocciolacomune.re.it e indicando il tuo interesse a partecipare. Farai parte di un progetto importante per il futuro tuo e della tua città. Muoviamoci insieme! È tempo di partecipare, è tempo di cambiare. È tempo di MoveOnGreen!